Chiaramente senza nasconderci, chiunque voglia venga adesso perché noi stiamo andando avanti, stiamo andando avanti, anzi vi dico che le cose sono molto avanzate, chiaro sto fatto? E' chiaro? Quindi questo per farvi capire, funzionano, fattano, come? C'è la possibilità di all'occhio di aria, Sì, certo, siamo avanti, sono dieci giorni che giriamo per l'Italia, domenica io stavo a far trasloco, così almeno siamo casa, che cambio casa, chiaro? Ecco perché c'ero, Bucci, così ve lo dico, perché lui non ve lo diceva, lo dico io, ha preso un bello appartamento a Roma, sta asfaltando le vie più importanti di Roma, solamente che l'ha da fare da notte, ecco, e c'ha da stare, è chiaro? Perché esistono anche, ma ogni volta che mancava la rapida, poi la vado in tutti i cazzi nostri, scusate, ma quello che ti pare, poi fammi finire la cosa, se no mi sfuggo, perché mi ricordo. C'è un attacco morboso, che leggo e vedo, ai giocatori, che questo non venga interpretato come un alibi, che questo, tutto questo che stiamo contestando, ripeto, criticare è legittimo, ma c'è un tempo e un modo, no tamburo battente, con duemila stronzate al giorno, tutte le volte, perché nelle squadre poi ci sono giocatori forti, giocatori esperti, ci sono ragazzini, subentra la paura di sbagliare in campo, dopo per non sbagliare, non fanno, non deve essere un alibi, però stiamo più tranquilli, non vinciamo quest'anno, il prossimo anno vinciamo, ci proviamo sempre, perché poi ci ha dato pure un po' di fortuna, che quest'anno è mancata, perché anche questo, per quanto riguarda la società, chiudo, dopo dopo parliamo dell'altra storia, con la storia dei capitani, fammola finita, capitani l'ho invitato io, Lucifora, ma ancora lo sapeva, è venuto qui, perché l'ho invitato io, capitani sta bene alla Torres, perché si becca, un bel pezzo di contributo dalla regione, perché ha statuto spacciare, quello che è, non lo so, ha il suo contributo in Lega però, è riuscito anche a fare qualche lavoro, e fa bene a stare lì, fatela, finita, distrumentalizzate, ma lui che? Ma lui ne frega niente, ci ho parlato, ma io ci parlo, ho bisogno di parlare di Lucifora, ma mi dispiace che amico tuo, a Lucifora, io lo conosco, mi telefona 300 volte al giorno, 300 volte al giorno, e gli dà anche una buona, e c'ho anche un bel rapporto, mi interessa Lucifora, io parlo con capitani, e mi dice che, le parole sono persone, sì, allora, mi disposto a dare una mano alla salve, in un progetto serio, e in un progetto serio, ma ritaglio questa frase, qual è il progetto serio, ma più serio di questo, quando cazzo ce l'ho avuto di Romagna, io, ho capito, ma se ho parlato di lui, l'ha detto a te, non l'ha detto, né a me né a lui, perché qui, tutti parlano, se il capitani, se il capitani c'ha voglia di fare quello che dici tu, il mio numero, il suo numero, alza il telefono lo faccio, allora, io so solo che il capitani, un mese fa, ti ha telefonato, ti ha chiamato, ti ha chiamato più, io manco un signore in chiesa, l'ho pregato, è una figura del po' prima la gente, è bello? e allora, non continuarti, che il capitani vuole entrare, ma dove vuole entrare? ma sono dichiarazioni sue, ma a te, non a me, ma io ti sto, io ti sto chiarendo, dice lui, beh, ha detto a te, però, a noi ci ha chiamato nessuno, perché quando è venuto, io l'ho invitato io, l'ho invitato io, perché stavo io vicino, e poi prego, questa è la verità, perché questo è il tizio, una cosa, se uno la vuole, la fa, la dice, la fa, se lui la vuole fare, capitale, il numero mio ce l'ha, a te ti chiamo, perché la chiamato, ti dice queste cose, a me non mi ha chiamato, basta, parliamo di Oliveri? Oliveri, Oliveri, qui dobbiamo un chiarimento, perché, per coerenza, allora, premesso che questo livelli, che già la seconda volta, esce fuori, premesso che io, non ho mai avuto il piacere, di conoscerlo, e nemmeno tu questo, Beh, perfetto. Noi abbiamo sempre detto, che siamo disponibili, a fare questa società, perché secondo noi, il progetto San, è questo, una società allargata, ma attenzione, se c'è un uomo forte, economicamente, che vuole fare da solo, siamo disponibili, di amparo, passi, io sono due anni, io ve lo dico, non c'è un uomo, abbiamo detto questo, a tutti, ci tenga a fare questo pianimento, perché è giusto che sia così, quando si è riprospettato, diciamo che, una persona dell'associazione, è qui da parte, ci ha prospettato di dire, vogliamo sentirlo, se lui è interessato, noi eravamo conoscenza, e ci sarebbe andato, così per correttezza, perché è giusto, quelle cose vengono lette, poi non so, chi c'è andato, se c'è andato, se c'è andato, qualcuno, non lo so, non mi interessa, e la risposta, che è stata, dita, fatta dopo, che, lui piacerebbe, come capitano, piacerebbe, però, è giusto aspettare, quest'estate, quest'estate, spero le salmati, e poi c'è andato, senza aspettare, perché è stata aspettare, mi occupa, allora, chi può ritenare, è il momento, questo, no, quest'estate, che vuol dire, quest'estate, come viene, io sono interessato, vanno l'accordo, e per giugno, chi lo so, qui, io non c'ho nessun, e nemmeno lui, mistero, su sta persona, questa è stata la risposta, poi dopo, c'è stata qualche giornalista, ma io non sappiamo anche, come ha fatto di farci, l'abbiamo, però, questo si dice, che comunque, ci ha parlato, non è, perché, siamo utilizzati a parlare, a tutti, che era la risposta, può parlare di tutti, più, cioè, dopo l'ora, tutti è una cosa, cioè, questo è che non capite, allora, c'è caro, che non c'hanno più i soldi, ancora, sto modo di fare, ha rotti con gli ordini, prova, ha rotti con gli ordini, ma i soldi qui, chi c'è là, scusate, ma se siamo duramente, in quest'anno, in quest'anno, allora, guarda la finita, questa storia, Poi c'è stato, qualche giornalista, che ci ha chiamato, ho detto giornalista, non ho detto giornalista, perfetto, e ci ha chiesto, dell'uscitazione, su questa storia, non penso che io, no, a me, se le tiene, ho detto, io non ce l'ho a parlare, non ce l'ho a parlare, non ce l'ho a parlare, non mi piace il terrorismo, lei è molto brutta, eh lo so, anche tu, è brutta, non ce l'ho a parlare, no, 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 ma questo, vedi, scorda, non, ascolta, la mia, no, io non ho, il silenzio stampo, ti l'avrei chiamata, ma, ti puoi, siccome, ascolta, la sua, scusa, siccome siamo due grandi, allora, giochetto di provocare, per far interrompere il silenzio stampo, lo conosco io, e sta a porno, allora, scrivele qua, non ci so il silenzio stampo, queste cose, così almeno te le chiarisco, eh sì, ma non c'è il silenzio stampo, va bene, va bene, comunque, ascolta, io so, parliamo anche di questo, io so che tu vai, televisione, radio, ti ho ascoltato, televisione, radio, vai, ti ho detto che ci vai, in ogni trasmissione, per secondo me, un giornalista sportivo, che è giusto che critica, è giusto che critica, però, siccome tu sei disabbedente, e credo sei attaccato anche alla squadra, devi, devi, in attimo, essere più positivo, non che tu, io ho detto sempre con stima, sia il monopi che il duccio, sì, ma a me pure non aveva stima, non è un problema, ma anche la vostra correttezza, non c'è stata nessuna critica, vedo, ma non so che critica a me, a me, ha giustificato il fatto che lei dica che qua si fa terrorismo, non si fa terrorismo, si fa pessimismo, si gioca al massaggio, lei è esagerato, ok, va esagerato, va bene, se permette che io posso dire, sì, tu tanto vuoi disegno, quindi, ma che permetto io, va bene, per me, per me è così, non si va da nessuna parte, perché si infuocano le situazioni, perché poi, tu scrivi e sul giornale, tu parli sulla televisione e sulla radio, e è un media, dove ascoltano tutti, poi qui c'è il pizzo di vialle, di storce, di amplificarle, io non posso stare tutti i giorni a smentire, cosa fa col presidente della Civitano Oese, che manda i comuni a stampa a rara, ma mi faccio capire, lei sta sottovalutando anche un'intelligenza di chi ascolta, no, io non sto, scordo, io non sto, non so, però tu c'hai un modo, siccome sei un bravo giornalista, e sai scrivere e parlare, tu c'hai un modo fino, di dire le cose, e non le fai passare per il tuo pensiero, il tuo pensiero lo vuoi, ma il tuo, non fa passare le cose per verità, cioè ti ripeto, se è una televisione pubblica, tu dici, ma questa è l'ultima, se no ce ne sono anche altre, perché me le ero segnate, mi sono ascoltato il foglio, tu dici, Palladini non allenerà mai, perché non è di gradimento a uno dei due presidenti, ma come fai a dire la cosa, ma tu che ne sai, tu metti su Palladini, che è un idolo di San Benedetto, poi parliamo anche di questo, perché Palladini adesso è l'idolo, perché questo c'è anche sto vizio, poi dopo a me risulta che l'avete pure contestato, quindi alla fine, un voraccio pure lui, una volta è contestato, una volta no, è stato fatto, e così vale per Mosconi, Mosconi, contestato, ma è andato via, ora che va a casa, su fratello, ma di piano Mosconi che è il culo, ma perché fate queste cose, io con Mosconi, le cose che ci sono, di Paola, è stato mannato via, perché non andava bene, perché volevano proteggerci, il cocco, tozzi, i porzoi, di Monet, io non c'ho cocchi, i giocatori in cellulano i cocchi, però non le posso dire, che tra tozzi e porzoi, e di Paola scelgo tozzi e porzoi, perché voi non capite, e non pensate, pure sta attacca a tozzi e porzoi, quello che il romano tozzi e porzoi, subisce ogni giorno, non voi, la città, quello che subisce, quello che fa nello spogliatoio, e quello che sta facendo per tenere, e lavorando per tenere, questa situazione per farla migliorare, allora, i miei rapporti, io con i giocatori, non c'ho cocchi, e non c'ho, c'ho conoscenze, li conosco tanti, ma per me sono giocatori, non confondo i ruoli, e con me e Palladini, se tu ti riferisci, così lo dico io, a una questione che è successa l'altro anno, su un discorso fatto, tra me e altre persone, se ti riferisci a questo, io te lo ridico, quello che è successo, quando si parlava di calcio, come parlo con te, per te Pazzi è un ottimo giocatore, magari per me non lo è, allora si faceva un confronto, di dire, ognuno c'ha la sua idea nel calcio, per te Palladini è un fenomeno, magari per me non lo è, per te che ne so, ma questo vale per Murigno, come vale per altri, ma io non ce l'ho con Palladini, perché ce la dovrei avere, io con Palladini, ci ho avuto sempre un ottimo rapporto, forse l'unico problema che c'è, se sono parlati poco, questo, sta facendo un bel lavoro, nel settore giovanile, ma perché io andrò a rompere i coglioni, ma perché, già per carattere, lui ha visto il buono quel modo, e subisce tanto, perché ha duemila problemi, perché ripeto, ricostruite a zero, perché da zero siamo ripartiti, senza una cazzo di struttura, senza dei pulmini, basta dire il mister, cioè, non è un gioco, siete tutti bravi a fare, ma dopo bisogna lavorarci, combattere con i ragazzini, con i genitori, con i conflitti interni, esterni, cioè, sta a far maderazzi, da un bel sottio, da tutte le parti, ma perché dovete mettere su, queste storie, io non c'ho niente con Palladini, e Palladini c'è niente con me, perché sta tranquillo, se c'era come se non è andato, tu le ho detto pubblicamente, in televisione, allora, non mettiamo su, non mettiamo su, falsi, stupiti, non fate giocare, i giocatori di San Benedetto, ma perché dire così, chi, chi, tu stai, domande? Io rispondo a, a quello che viene detto, viene scritto, che c'entra la Noi Samba adesso, la Samba, voi sapete la Noi Samba, con la Noi Samba, c'è un accordo, stanno facendo un lavoro, poi, prima c'erano certi rapporti, noi i rapporti si sono un po' freddati, per tanti motivi, per tanti motivi, ma non c'entra niente questo, queste sono cose, che poi i valli sporchi, se le avremo in casa noi, ma che dobbiamo mettere in piazza, tutte queste storie, poi dopo, ci saranno dei problemi nostri, che rimangono nostri, ci saranno dei confronti, tra noi, la Noi Samba, ma che non c'entra niente, i valladini, non c'entra niente, perché i valladini, stanno con la Samba Nettese, fai il bene della Samba Nettese, non della Noi Samba, e io, i valladini, non c'ho niente, il mister, mai avuto niente, forse se ne siamo parlati poco, forse ci siamo trascurati, ma perché, non è che il settore giovanile c'era, c'era niente, quando abbiamo ricominciato, è vero o no? Nel primo quadro, nel settore giovanile, era agosto, poi piano piano stanno a fare, i campi che voglio fare qua, la foresteria che voglio fare qua, è per il settore giovanile, poi se siamo scontrati, che lui vuole fare il sintetico qui, e a me non piace, ma questo ho coglionato, madonna mia, non sai che potevamo andare a fare, i discorsi, a parte che non fanno, nel sintetico e nel campo, secondo me, non farà mai l'allenatore, perché non piace a uno dei due presidenti, siccome penso che ti riferivi, a quel discorso fatto, a suo tempo, che poi ci siamo chiariti, no? Io di Palladini ho parlato, infatti, se fosse stato richiamato dalla società, giustamente, all'impedovuto, io penso, potrebbe essere questa l'idea, avere un, per dire di sì, avere un progetto, ma questo, tu non hai detto questo, tu hai detto, Palladini non viene chiamato, perché non sta simpatico, a uno dei due presidenti, e comunque, Palladini non ci viene, se non con un progetto, allora, io, questa cosa, che tu, questa antipatico Palladini, non la devi dire, e non credo che tu possa dire nemmeno quest'altra cosa, a meno che tu l'ha detta Palladini, perché se no, e allora come fai a parlare? Magari Palladini le dici, guarda, abbastanza di raccoglionata, io sto a fare il settore regionale, sto bene qui, oppure dico, no, guarda, io non voglio fare, perché magari, prossimo anno me ne voglio andare via, voglio andare a allenare la maceratese, cioè, ma che, cioè, non puoi, se fai passare i tuoi pensieri, fai passare, ma non puoi far passare per scontato, perché questa è una piazza complicata, abbastanza, quindi tu, quello che dice e scrivi, bene preso, ve l'hanno volato, ma anche quello non è vero, ma tu non puoi capire quello che c'è dietro, e le confusioni che si fanno, eh, come sappiamo, dai, riportiamo le cose nei giusti virali, eh sì, è ora, è ora, è ora, mi sembra che rapporti, non ti ha arrivato, no, quando Oliveri, c'è un po' di marco, Oliveri, che è un po' di marco, Oliveri, eh, che si è stato, Oliveri, ecco ascoltato, felicissimi, se sia Oliveri o chiunque altro sia, che possa dare una mano, eh, c'è stato chiesto correttamente, perché la verità è questa, c'è stato chiesto correttamente, se si poteva, eh, vedere se c'era la possibilità, questa possibilità, è rimasta, a quest'estate, e finita lì, tu mi hai telefonato, hai telefonato a tutto il mondo, perché puoi intervermi, chiedendo, noi ti abbiamo negato, perché l'accordo era questo, cioè nel senso di stare attenti, cauti, di non spandere voci, ma lì è finito così, e io ho finito lì, ma basta con questa storia, Oliveri, se ci aveva intenzione, alzava il telefono, che c'era un contatto, e mi sarebbe uno da parlare, questo è, però se uno ti dice, se quello che mi riguarda, è fin da lì, perché c'è stato quell'articolo, e semmai, si saranno sviluppi, dove non sono la questione, è fin da lì, per quel tempo, e basta, però, però, Oliveri, se ha intenzione di, gli interessi alla serbena intese, alzerà il telefono, e chiamerà, perché, perché, perché dopo, la colpa è sempre nostra, e magari facciamo un'altra cosa, io ti sto chiarendo, la nostra deposizione, non sto usando te, non sto usando te, la gente qua fa intende, però, questa è la verità, quindi, correttamente, questo è il discorso, punto e basta, non c'è altro discorso, non c'è altro, il resto, è noia, però, se voi allargate la base societaria adesso, probabilmente, non c'è più spazio, ma lo spazio, ascolta, la base societaria, può essere allargata all'infinito, forse, cominciamo con gli alibi, cominciamo con gli alibi, allora, dovete prendere atto che a San Benedetto, gli imprenditori interessati a questa società, ad oggi non ci stanno, basta, non è nada a cercare alibi, chiaro, ha paura del tifoso, non voglio far presidente, so, coglionate, non ci stanno, punto, perché non hanno voglia, allora, non gli se ne può fare una colpa, perché pure sto piagnista, ha rotto i coglioni, non è che se uno non vuole fare un caccio, non lo fa, è un amico obbligato, ragazzi, parliamoci chiaro, basta, andiamo, cercate un'altra parte, è chiaro? e siete a buon punto, e siamo a buon punto, qua non sarà affatto, ne ho trovato, perché le ghiacchiere in questo mondo, sapete? ma siccome, se hai detto, odio veri, c'è nessuno di spessore, no, hai chiarito questa storia, ma magari venisse, dove è il problema? è il dispessore, però c'è, capitani, ci vado a dare una mano, ma magari, però c'è, se uno vuole fare una cosa, se io a me mi interessa di fare una cosa, ascoltami, voglio fare una cosa, ne voglio comprare Vera TV, alzo il telefono, chiamolo, dà, che la venni, così si fa, ti serve il socio, fanno un incontro, andiamo a pranzo, mi ci vuole tanto, parliamo di Vera TV, magari, io non lo posso comprare, perché l'enda è più ricco di me, quindi, molto più ricco, quindi la posso fare, però ti voglio dire, questo si fa, figura della società di calcio, si chiama, si cerca il contatto, vogliamo fare un incontro, andiamo a pranzo, parliamo, questo non c'è, noi ne continuiamo a riempirsi la bocca, se no, ve ricomincio a tirare fuori, tutta la storia dell'assicuratore, ricominciamo con le coglionate, eh, eh, basta, eh, allora, no, io dicevo questo, Bucci come ha fatto, scusate, mi ha chiamato, ho fatto un incontro, così se lo dico, spero il segreto, mi ha detto, io, posso pure valutare questa cosa, voglio vedere chiaro tutto, e poi l'ha fatto, ha visto chiaro tutto, poi ha deciso, ne ha chiamato il mio nonno, ci ha mandato il mio zio, o l'ha detto a, chi ha, chi parla sui giornali, di solito, quello che mi hanno comprato, uno può non fare, hai detto, posso dire tu, hai detto che, che, ieri sì, ma lo so, come se parla, che, stai, state lavorando, e c'è da un po' punto per allargare la base, certo, a questo socio, che si chiama Giovanni, o Giovanni e Paolo, che arrivano domani, che ne so, così, a casacce, no, magari l'ha cercato pure, dicevo, non gli puoi poi dire, adesso, a giugno, andiamo via tutti, e vi voglio vedere, questo, forse non me lo spiego, se no, non ci andiamo a parlare di, se no, stiamo a fettinare le bambo, allora, quello che hai letto a dire, la base sociale, è il momento vuoto, allora, se chi è interessato, deve parlare a mo', punto, è quello che dicevo, forse stiamo dicendo, a me a giugno, non mi frega più niente, no, ecco, questo, posso, se è carino, bene, io quello, voglio capire, quanto siete esasperati, nel senso, che tutta questa situazione, no, non siamo, siamo, non siamo esasperati, siamo, siamo, meravigliati, cioè, ripeto, qui c'è un distacco troppo forte, c'è la squadra, la presidenza, i tifosi, la stampa, cioè, questa San Benedettese, c'è la fine, in testa città, ma perché si deve continuare, per forza, a distrugere tutto, cioè, non è, ripeto, i tifosi sono cazzati, perché, dopo vince il campionato, figurate, quanto siamo cazzati noi due, che non abbiamo vinto, i presidenti, mi sa che non vogliono vincere il campionato, leggo delle cose, da coglionate, cioè, noi siamo, parte che ci piace vincere nella vita, figurate nel calcio, troppe te ne direi, guarda, troppe te ne direi, che forse stiamo a perdere apposta, cioè, c'è delle cose, da fuori di testa, fuori di testa, lo sapete tutti, dai, non vivi a, non vivi a, non vivi a San Benedetto, dei vari commenti che ci sono, commenti, da tutte le parti, allora, noi, noi, non ci piace vincere la natura, figurate, ma il calcio, se te le ha il gusto di ci, che lo fai a fare, se non la lega non costa, perché questo è in gioco, guardate, che quello che stiamo facendo noi, qui, in quest'anno, in serie di, essendo tutto complesso, non è che cambia tanto, sì, cambia, c'è la fiducia, sì, però c'è pure, mezzo milione dei contributi, che tu non c'hai qui, c'è soldi di cazzi che aumentano, cose che non puoi scaricare, eh, cioè, capisci come alla fine, non è che, tutta sta gran, c'è differenza, ma, c'è pure differenza sull'entrata, è chiaro il discorso? Ma la mia domanda, perché era per capire, se eravate talmente delusimo, quello che pare, meravigliati, sospirati come Paraguè, appunto, di arrivare a decidere, magari, il futuro di lasciare. Ma te stavamo lavorando, a base sociale, cioè, stavamo a fare, abbiamo fatto dieci incontri, in tutti gli anni, abbiamo girato mezzo mondo. Insomma, è un rito forte quello vostro, più forte di così, cioè, che tanto ha di più? E' logico che poi, se continua questo gioco, il massacro, cioè, però, se c'è, ascoltate, no, perché qualcuno ci parla, anche pure questo, un grande burattinaio, che ad arte espande tutta sta storia, queste chiacchiere, per fare chissà cosa, io, ve lo diciamo chiaro, non c'è bisogno, diteci qual è il progetto, cioè, qual è il progetto? Qualcuno lavora, venite qua, non per stare a perdere tutto sto tempo, non vale la pena, state a perdere tempo, al burattinaio, io gli dico, perché sta a fare una cosa, che non serve, vedi qua, c'è chi è più bravo, è più il professore, il luminario del calcio, venite qui, venite qui, fai le scelte vedere, di, perché prima parlava dell'amministrazione comunale, la domanda è che ultimamente quando noi ti parlavamo dell'apparto a Roma, per le strade, allora, proprio quest'anno, l'amministrazione sanmente, si è in bilancio, una cifra considerevole, per rifare tutte le vie cittadine, che di rispetto, beh si vedeva più, insomma come sono, in che condizioni sono, voglio capire, se la sua azienda era mai stata invitata, no, assolutamente no, ma io, io con Gianni Monito, noi gli vogliamo regali, o cose illegali, o cose, comunque non è stata invitata, comunque, comunque non è stata invitata, comunque non è stata, io non sono mai stato invitato, non sono mai stato preso, è un'azienda così, prese il consenso, non lo dico io, è un'azienda che fa i lavori per il comune di Roma, quindi le certificazioni, ce le ha tutte, è chiaro sto fatto? L'abbiamo fatto, fine settimana a Via del Corso, da Cazza di Venezia, a tutto Via del Corso, in Via Nazionale, in via del Trigone, questa notte stavamo a Via del Quarinale, e anche stanotte ci ritorno, quindi siamo alla giornata e notte, ringraziando Dio, questo è un'azienda di non essere mai stato chiamata in casa del Comune Salute, ma è certo, è normale che c'è dispiacevo su questo, ma solamente per, ma solamente per un conforgimento di stima, che poi dopo viene, se viene il lavoro, ben venga, viene il lavoro, si guadagna 100, i 101 dove vanno a finire, alla San Benetese, non vanno a finire da Schimini, quindi quello è, ma però senza, è una questione, i soldi sono importanti, perché io mancherebbe uno, perché è il lavoro, è contentissimo, ma però è una questione di stima, e tutto di rispetto, di riconoscenza, di riconoscenza, di riconoscenza, questo, poi in generale, in generale, in generale proprio le istituzioni, io l'ho visto assenti in questo, in questo periodo, quando sono qui, molto molto assenti, e ce n'è bisogno, perché il territorio, cioè, dove si allena il settore giovanile, dove si è allenato in una squadra, cioè, in questa città, non ci sono strutture sportive, non ci sono, ma per crescere, per crescere, una società di calcio, non è che cresce solamente, con i numeri, con le categorie, ma deve crescere, in paro passo, anche con le infrastrutture, e le strutture sportive, perché sia non difficile, andare avanti, è difficile trovare, quella progettualità, obiettivi, obiettivi sì, progettualità sì, ma le infrastrutture, sono importantissime, dal settore giovanile, alla prima squadra, ma se non c'è l'amministrazione, se non ci sono le istituzioni competenti, non è che uno ha la pacchetta magica, e viene a fare, cioè, c'è bisogno di quella famosa sinergia, quella famosa sinergia, da parte di tutti, per poter andare, sempre tutti quanti, in un unico obiettivo, e su un'unica linea, perché se vai da solo, non vai da nessuna parte, come ad oggi, penso di quello che è successo qui, perché una società commerciale, è impossibile, non c'è strutture sportive, non c'è infrastrutture. È giusto anche che ringraziamo, comunque, anche quelli che ci stimano, che sono tanti, quelli che... l'hanno detto all'inizio della compagnia, uniti, cioè, uniti, uniti, cercamo tutti di, di fare il meglio possibile, poi, quest'anno il risultato sportivo non arriva, il prossimo anno ci arrivano, poi ci arrivano, cioè, piano piano arriverà, intanto, costruimmo quello che manca. Ma questo è un altro alibi, scusami, quello che è successo nel passato, non lo potete far pagare sempre, vivete troppo di passato, la piazza è esasperata di che cosa? È esasperata dei casini che ci sono stati? Va benissimo, giusto, però bisogna entrare una linea nella vita, se non sempre vivete i ricordi, i ricordi, il passato è passato, basta, oggi c'è il presente e c'è il futuro, il risultato sportivo non arriva, bene, pensiamo a fare questi campi, pensiamo a sviluppare il settore giovanile, pensiamo a dare solidità alla società, queste sono le cose, pensiamo finalmente di andare a far più di zingare in giro, a mendicare o a liticare per far allenare i ragazzini, fanno una scuola a calcio voi contro i coglioni, questo è, poi arrivano i risultati, poi arriveranno di conseguenza, ma questo non c'è, non c'è in dover interpretare il messaggio, ce l'abbiamo con i tifosi, no, i tifosi non lo fanno i tifosi, contestano, fanno quei pepati, però, i fumogeni non ce ne accendono, perché ci fanno i danni, ancora c'è un coglione che accende i fumogeni, dopo tutte le multe, e hanno ripreso un'altra 400 euro di multa, ma perché? Perché? Se si può fare, se si può fare, no? Abbiamo pagato in Lega 6.300 euro il 15 gennaio, di multe, il 15 gennaio, a tutto il 31 dicembre, quindi capite benissimo, il primo gennaio, ma stavamo tutti dalla stessa parte, cioè non è che stavamo contro i tifosi, o contro la squadra, ma poi è una la San Benedetto, cioè non capisco questo modo di porsi, su tanti vedo, non su tutti, ma su tanti vedo un atteggiamento, questi sono stranieri, noi siamo dei San Benedetto, ma che significa? Ma che significa questo? Perché questo atteggiamento? sto campanilismo, come se vi stassimo a rubare qualcosa, ma che rimane tutto a voi? Non portavo io niente, mancano i palloni, io te credo che se stavamo negli tutti insieme, tutti, poi il giornalista la fa il giornalista, le sue critiche, quello che volete, però insomma, fatene in una maniera intelligente, criticate, ma non creiamo sto clima di casino, e monete incestate, perché appato, già risorti, c'è da Bucci, Bucci è incazzato con monete, ma che è? Veramente è esagerato, tutto, per fortuna siamo due persone seri, la politica è tra di noi, e questa è la manovra dei moneti, per il Castrabucci, manca strandori, manca strandori, ok? C'è altro? Sì. Prego. Se siete avanti, con la pianificazione, ci stiamo lavorando, da oltre dieci giorni, se siamo mancani pure per questo, ci stiamo lavorando, ci siamo tanti fronti aperti, interessanti, speriamo che si concludano, non ce n'è uno, non c'è un nome, non ce ne so, e non ve lo diciamo, quanto su tutta oltura, non cominciate con le favole, con tutti i nomi del mondo, però sono diverse proposte, le stiamo facendo, ma non perché volevamo portare i stranieri, perché qui non ci siamo riusciti, era il sogno mio dall'inizio, è un anno che lo dico, voletevi come la pensiamo? Per noi, l'associazione, noi salve, era meglio che entrava dentro una società, io da quant'è che ve l'ho detto? Da quant'è che lo dico? Sono due anni, ma se la volontà non c'è, e non ci sono i presupposti, o non ci so, perché poi ognuno ha i suoi problemi, e basta, bisogna tirare la riga, se no stiamo qui a pettirare le bambole, oh fermammi, se il mondo avanti è, non è che si può aspettare, le chiacchiere. Sì, se l'hai detto, sì, bisogna essere, adesso in società, non bisogna, no, al senso non farete l'accordo adesso, per il giugno, non, ma quest'estate, cioè, a parte adesso, non ci dice, ma c'è, diciamo, una data, entro il quale vorreste, il tempo che ti siederai? No, ma no, ascolta, non è, ti spiego com'è, il mondo del calcio, no, come funziona, ci sono tanti perditi, che poi, noi tante volte ci parlavamo, e diciamo, ma perché la gente fa queste cose, no, perché è pieno di gente che perde tempo, io voglio entrare, io lo voglio comprare, io so, conosco il mondo, eh, poi spariscono, il motivo poi di tutta questa cosa, c'è la visibilità, la visibilità di che? forse è pieno di intermediari, ma è pieno di chiacchieroni, allora, uno che vuole entrare a giugno, come dici tu, viene, oggi, perché oggi siamo a marzo, dice, io sono interessato, voglio il 30 del 100, voglio il 100, voglio tutto, voglio poco, quello che vuoi, mettiamo l'ero su bianco, mi garantisci quello che dici, perché sa che succede? e a giugno, magicamente, hanno un problema, e sono spariti, allora, io non mi posso affidare a uno che mi promette, forse un giorno che piove tanto, che ha detto uno che ha visto passare, sono persone serie, poi tra le altre cose, bisogna pure capire con chi ti metti in società, se è uomo di calcio, se c'ha le garanzie, perché se tu ti metti in società, che poi dopo richiacchieriamo, perdiamo tempo, è uguale, quindi uno viene oggi, dà prove, certezze, si è intenzionato, perché il calcio è così, se uno lo vuole fare, credetemi, ci si mette un secondo, poi con una società come la nostra, che non è che c'è da fare tante verifiche, perché è talmente cristalline, trasparenti e tutto a posto, che ci vuole un'ora, quindi tante perdite di tempo non ci sono, perché noi abbiamo una contabilità, che grazie a Manolo, che è no esasperata, di più, cioè ci sono scritte, se sono mancati due euro, un euro, è chiaro dall'incasso, una 10 euro, una 50 perché non fa, l'altro giorno guardavamo tutte le cose, 50 euro false, ma che cazzo ha scritto, ho scritto, ho scritto, quindi il problema c'è, però ci vuole il volere, perché se no è un mondo di chiacchieroni, e di gente che parla e basta, quanto vale la società? Dipende da quanto vuole entrare, le società di calcio, te l'ho già spiegato, valgono per quanto le vuole, questa società, in questo momento secondo me, c'è un bel valore, però non valgono le società, valgono gli uomini che entrano, questo è diverso, perché trovare una persona seria, ne è facile in questo momento, nella vita e nel calcio di più, quindi se lo trovi, parla vale poco o di meno, ma piglielo subito, questo è il concetto. Ci siamo? C'è altro? Stanno lavorando, non lo sopportare per parecchio tempo, no, l'importanza è che lo sopporta nessuno, non stiamo lavorando, ripeto, per allargare la base sociale, poi ci sta pure, che arriva uno e dice, sì, io la voglio allargata tutta, le va a dare i coglioni, e noi se ne vanno, se è una persona capace, se ha le potenziali economiche, ma perché faglie del male? Però oggi si è vista una determinazione, tanta e tale, che insomma, sì, ecco, ok? E che fine avevo fatto l'anno scorso, scusa? No, nel senso che, no, spiegami, non mi pare che avevo fatto una brutta fine, prima di tutti, mi intendo io, cioè, erano state avviate trattative con persone che poi, ripeto, allora, le trattative in piedi, ci sono tanti, ripeto, abbiamo scritto una decina, non lo so, apposta famole di silenzi stampa, perché sono cominciato a dire talmente stupidaggine, non l'aveva detto lei, no, ma queste tutte, tutte piste che vi depisto io, perché dopo, me rovinate, me rovinate i soci, perché io avevo un accordo, Bucci mi ha detto, sì, mi serve un mese, non voglio che esca fuori il mio nome, vero o no? E allora, basta, io devo rispettarle le cose, quindi questa pure potrebbe essere, no, no, non so di sottopistare, ci sono delle trattative, aperte, che stanno avanzate, su tante, non con una persona, su diverse, stiamo cercando di valutare qual è la migliore, punto, basta, quindi, una persona entrerà, non diverse, ci sono trattative diverse, una c'è con la Sabrina, una con Bassotti, una con lui, una con te, che non si conoscono tra di loro, stiamo valutando quali sono le persone serie, qual è il meglio per noi, qual è il meglio per la San Benedettese, è chiaro? non abbiamo messo preclusioni, lo facciamo sempre, la prima cosa che diciamo, su persone, chi può portare, l'uomo tuo, l'uomo mio, il presidente, se erano donne, potremmo parlare di nome, no, ok? Bene. Grazie.